Ciao amici e benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Marianna e ogni settimana vi racconto la storia di persone scomparse. Persone che sono letteralmente svanite nel nulla senza lasciare quasi nessuna traccia. Vi ricordo che lo scopo dei miei video è quello di dare voce ma soprattutto ricordare i protagonisti di questi cosiddetti cold case che sono dei casi irrisolti rimasti sempre aperti che aspettano soltanto di giungere ad una conclusione. Se questi video possono interessarvi allora non dimenticatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdere gli ultimi aggiornamenti ogni qual volta pubblico un nuovo video. Oggi amici vi racconto un caso che mi avete consigliato voi nel modulo che vi lascio sempre in descrizione dove potete consigliarmi casi di persone scomparse risolti o irrisolti da trattare. In realtà il caso che tratterò oggi è un cold case per metà diciamo perché la persona scomparsa in questa storia è stata recentemente ritrovata. Però le indagini sulla sua scomparsa sono ancora in corso. Oggi amici vi racconto il caso della scomparsa di Lucas Tronche. Lucas Tronche nasce il 18 aprile del 1999 a Bagnol-sur-Seise, un comune situato nel sud della Francia che conta circa 18.000 abitanti ed era il secondo di quattro fratelli. I suoi genitori di nome Nathalie ed Eric Tronche sono entrambi ingegneri della commissione francese per le energie alternative e l'energia atomica presso la centrale nucleare di Marcul. Questo lavoro procurò ovviamente alla famiglia un reddito di medio-alto livello che consentì a Lucas e ai suoi fratelli un'infanzia decisamente agiata. La famiglia e gli amici di Lucas lo descrivono come un adolescente di 15 anni, equilibrato, molto intelligente, curioso, gentile e disponibile con tutti, anche abbastanza responsabile per la sua età. Lucas era appassionato di scoutismo, amava stare all'aria aperta e esplorare riserve naturali imparando quanto più possibile sull'ambiente che lo circondava e sulla terra in generale. Uno dei suoi tanti obiettivi infatti era quello di approfondire i suoi studi in geologia, quindi voleva anche studiare i minerali e le rocce che costituiscono la crosta terrestre. Inoltre era un amante degli animali ed era membro del gruppo scout locale già da diversi anni. Attraverso lo scouting infatti aveva imparato le abilità di sopravvivenza di base, acquisendo anche diversi valori come l'importanza del volontariato, della beneficenza e del servizio civile. Lucas insomma era nato per guidare gli altri e questo lo faceva sentire orgoglioso e rendeva orgogliosi anche i suoi genitori e gli insegnanti. Inoltre era appassionato di sport e gli piaceva competere in diversi eventi sportivi, in particolare nel badminton, ma insieme ai suoi fratelli era anche un appassionato nuotatore, infatti frequentava anche un corso di nuoto. Quindi insomma era un ragazzino molto attivo e riusciva ad eccedere in tutte le attività che svolgeva. Ovviamente svolgendo tutte queste attività e trovandosi quindi in contatto con molte persone, si potrebbe pensare che era anche un ragazzino molto estroverso, in realtà però non era proprio così. Nonostante i suoi mille impegni e il coinvolgimento in diverse attività sia sportive che non, Lucas era comunque un ragazzino abbastanza introverso, soprattutto durante la sua adolescenza. Non esternava facilmente le sue emozioni o i suoi problemi, però tendeva a preoccuparsi e a prendersi cura sempre degli altri, in particolar modo dei suoi fratelli, sacrificando molto del suo tempo per assistere qualcuno che ne aveva bisogno sia a scuola che nel tempo libero. Lucas, come vi dicevo prima, era anche un amante degli animali, infatti una volta terminato il liceo, nei suoi piani c'era anche quello di frequentare la scuola di veterinaria. Tutto, insomma, nella sua vita sembrava procedere per il meglio, fino a quando però, purtroppo, nel 2015 accadde l'impensabile. Un paio di mesi dopo l'inizio del 2015, siamo quindi a sabato 14 marzo del 2015, Lucas trascorre la giornata insieme ai suoi genitori, dopodiché si unisce al suo gruppo scout per un fine settimana in campeggio. Quando torna, domenica sera, dice ai suoi genitori di essersi divertito moltissimo e che, come sempre, era entusiasta di fare queste esperienze. Lunedì e martedì, quindi il 16 e il 17 marzo, Lucas frequenta normalmente la scuola e la sera partecipa al solito allenamento settimanale di badminton nella palestra locale. E vi racconto questo per farvi capire che tutto stava procedendo normalmente. Infatti, né i genitori, né gli insegnanti e tantomeno gli amici hanno notato qualcosa di particolarmente strano nei giorni precedenti alla sua scomparsa. Mercoledì 18 marzo del 2015 sembrava essere una normalissima giornata della settimana come molte altre. La primavera era alle porte e il tempo era sereno. Tutta la famiglia si sveglia quindi alle prime ore del mattino e si dedica alla routine quotidiana. Quindi fanno colazione insieme e poi tutti si preparano per recarsi rispettivamente al lavoro oppure a scuola. Alle 7.45, Natalie, la mamma, accompagna Lucas davanti a scuola, dopodiché si reca al lavoro. Lucas sappiamo quindi, grazie a diverse testimonianze, che trascorre la mattinata a scuola, senza mostrare particolari segnali che ci fosse qualcosa di strano oppure fuori dall'ordinario. Anzi, i suoi compagni di scuola hanno successivamente dichiarato che quel giorno Lucas era di buon umore, quindi assolutamente nulla di preoccupante. Verso le 12.20, Lucas torna a casa da scuola dove pranzi insieme ad una babysitter, che si prendeva cura del fratellino più piccolo di nome Arthur, mentre i suoi genitori erano al lavoro. La tata informa Lucas che quel giorno Arthur era invitato ad una festa di compleanno nel primo pomeriggio e se voleva unirsi anche lui nell'accompagnarli a questa festa. Il ragazzo accetta, quindi accompagna il fratellino insieme alla tata alla festa di compleanno di questo amichetto, dove arrivano intorno alle 14.45 e tutto sembrava procedere normalmente. Lucas era tranquillo e non sembrava esserci assolutamente nulla di strano. Alle 15, quindi dopo solo un quarto d'ora, Lucas decide di far ritorno a casa e dopo un paio di ore, quindi alle 17, lui e suo fratello Valentin iniziano a prepararsi per la lezione serale di nuoto alla piscina comunale. Allora, di solito per recarsi alla piscina, Lucas e suo fratello prendevano sempre un autobus la cui fermata si trovava sull'altro lato del ponte Schumann, sempre più o meno vicino casa loro. Tuttavia, Lucas era indietro con i preparativi, quindi era in ritardo, perciò Valentin gli dice di sbrigarsi e Lucas risponde Vai, inizia ad avviarti, io chiudo a chiave la porta di casa e ti raggiungo direttamente alla fermata dell'autobus. Questa, però, è l'ultima volta che qualcuno vede Lucas. Alle 17.10, infatti, Valentin esce di casa lasciando Lucas ancora lì ed in effetti alcune videocamere che si trovano per la strada riprendono Valentin mentre si reca la fermata dell'autobus da solo. Tra le 17.15 e le 17.30 sappiamo che una vicina di casa dei Tronche, di nome Madeleine, vede un ragazzo molto giovane, che riconosce come Lucas, passare davanti casa sua vestito con una giacca beige grigia, diretto però nella direzione opposta alla fermata dell'autobus. Alle 17.30, Valentin prova a contattare Lucas telefonicamente perché nel frattempo l'autobus era arrivato e stava per ripartire però in vano perché il telefono risulta spento e si attacca immediatamente la segreteria. Il fratello pensa quindi che forse Lucas ci aveva ripensato e non avrebbe partecipato all'allenamento quel giorno quindi sale sull'autobus e se ne va. Passano altri 30 minuti, quindi siamo intorno alle 18 quando Natalie, la madre di Lucas, fa il ritorno a casa e trova la porta d'ingresso chiusa a chiave e all'interno non c'era nessuno. Quindi in base ai programmi di quel giorno e agli impegni dei figli di cui ovviamente era a conoscenza la cosa le parve del tutto normale. Due ore dopo infatti, intorno alle 20, la donna si reca come sempre alla fermata dell'autobus per andare a prendere Lucas e Valentin di ritorno dall'allenamento di nuoto ma quando arriva lì ad aspettarla c'era solo Valentin che immediatamente informa la madre che quel giorno Lucas era rimasto indietro e che poi non lo aveva raggiunto alla fermata dell'autobus né tantomeno aveva partecipato alla lezione di nuoto quindi pensava fosse rimasto a casa ma la madre però risponde che quel pomeriggio a casa non aveva trovato nessuno la donna quindi un po' preoccupata decide di contattare l'ospedale locale per capire se Lucas avesse avuto un qualche tipo di incidente e quindi si trovasse da quelle parti però la risposta che riceve è negativa Contatta quindi successivamente alcuni amici di Lucas che però le rispondono che non avevano alcuna notizia del ragazzo Nel frattempo anche Eric, il padre di Lucas, era tornato a casa da lavoro quindi insieme alla moglie decidono di contattare la polizia per denunciarne la scomparsa Gli inquirenti avviano quindi immediatamente le indagini e tutta la famiglia si unisce alle ricerche di Lucas in giro per la città da cui però inizialmente non emerge assolutamente nulla degno di nota Il giorno successivo, quindi giovedì 19 marzo la polizia apprende appunto che quella vicina di casa dei Tronche aveva visto quel ragazzo che aveva riconosciuto come Lucas passare davanti casa sua il giorno prima intorno alle 17.15-17.30 Avvistamento che era stato poi confermato anche da un'altra vicina di casa Perciò gli inquirenti con l'aiuto anche dei cani molecolari si dirigono in quella direzione per circa un chilometro a nord ma purtroppo non trovano assolutamente nulla di rilevante A questo punto inizieranno una serie di avvistamenti nei giorni immediatamente successivi alla scomparsa che cercherò di elencarvi in ordine cronologico in modo tale che abbiate una timeline più o meno precisa degli eventi Più tardi, quel giorno, intorno alle 18.30 quindi siamo sempre al 19 marzo un amico dei Tronche si unisce alle ricerche mentre esplorano le aree montuose sempre intorno alla cittadina Durante le ricerche questo amico di famiglia nota in lontananza la sagoma di una persona dall'aspetto giovanile in piedi in cima ad una collina Avvisa quindi immediatamente il gruppo di ricerca che in effetti nota la stessa identica cosa L'uomo decide quindi di provare a fotografare questa sagoma ma dato che l'avvistamento avviene di sera al crepuscolo l'illuminazione era troppo oscura per catturare l'immagine in fotografia Decidono quindi di avviarsi in direzione di questa sagoma e mentre avanzano urlano il nome di Lucas convinti potesse trattarsi proprio del ragazzino Però man mano che si avvicinano sempre di più vedono questa figura alzarsi e allontanarsi scomparendo nel crepuscolo Nei giorni successivi alla scomparsa la polizia francese più un totale di 1500 volontari pattugliano un raggio di 4-5 chilometri intorno all'abitazione dei Tronche con l'aiuto anche di cani molecolari e anche esperti subacquei che perlustrano il fiume Sese che è appunto il fiume che scorre lungo la città oltre che diversi elicotteri che perlustrano l'area dall'alto Oltre a tutte queste ricerche i genitori avviano anche una massiccia campagna sui social media chiedendo al pubblico di segnalare qualsiasi possibile avvistamento La polizia intanto ovviamente perquisisce anche casa dei genitori di Lucas utilizzando il luminol che sarebbe quel composto chimico utilizzato dalla polizia scientifica per rilevare tracce di sangue anche lavato o rimosso che appunto a contatto con il sangue diventa luminescente questo ovviamente per cercare eventuali tracce di DNA nelle camere da letto e nel resto della casa ed effettivamente quelle che sembravano essere delle tracce di sangue vengono ritrovate sul tappeto accanto al letto di Lucas e vengono esaminate proprio per accertare se si trattasse di sangue oppure del luminol che reagiva magari a contatto con qualche tipo di prodotto per la pulizia della casa ora in realtà l'esito di quest'analisi non è stato reso pubblico però suppongo non si trattasse di sangue visto che non se ne è più parlato lunedì 23 marzo un gruppo di volontari di ricerca e salvataggio ha affermato di aver visto un ragazzo molto simile a Lucas sulle colline sopra San Gervas quindi ad un'oretta di distanza da Bagnol sur Sez la persona quindi i ragazzi in questione era stato visto mentre era intento ad osservare i lavoratori della vigna però quando si era accorto che alcune persone lo stavano guardando si era voltato ed era scomparso all'interno del bosco quindi un comportamento molto simile all'avvistamento avvenuto con quell'amico di famiglia che aveva visto quella sagoma sulla collina una settimana dopo la scomparsa di Lucas un motociclista di passaggio in un villaggio vicino ha riferito di aver visto un ragazzo che poteva avere 14-15 anni che camminava con in spalla uno zaino lungo un sentiero verso una frazione del comune di Sant'Andrea de Roquepertuis diretto verso una collina questo motociclista due giorni dopo quindi il 25 marzo entra in una panetteria dove vede i volantini che segnalavano la scomparsa di Lucas nella zona ed immediatamente nota una certa somiglianza con il ragazzo che aveva visto quel giorno lungo la strada quindi allerta subito la polizia però nonostante questa segnalazione e nonostante la polizia avesse poi concentrato alcune ricerche proprio in quella zona non è stato trovato assolutamente nulla di rilevante passano ulteriori giorni e sabato 28 marzo le forze dell'ordine ricevono un ulteriore avvistamento un adolescente e suo padre hanno riferito di aver visto Lucas Tronche in un negozio alle Pontè ad una quarantina di minuti da Bagnol Sursez secondo questa testimonianza questo ragazzo era accompagnato da una donna con un'età compresa tra i 45 e i 50 anni anche le indagini su questa pista però si sono rivelate infruttuose dopo tutte queste segnalazioni la polizia inizia a pensare che poteva trattarsi di rapimento e il 30 marzo il procuratore distrettuale apre un'indagine giudiziaria che ruota intorno al rapimento alla detenzione illegale nei confronti di Lucas Natalie ed Eric infatti hanno sempre dichiarato che il figlio non aveva mai dato segnali di un qualche tipo di disagio che poteva portare magari ad un allontanamento volontario oppure ad un gesto estremo come ad esempio il sugirio quindi anche loro erano convinti che poteva trattarsi proprio di rapimento pertanto i genitori per mantenere alta l'attenzione su questa storia iniziano a partecipare a numerosi programmi televisivi e a numerose interviste chiedendo al pubblico di aiutarli nelle ricerche sei mesi dopo quindi nel 2015 i detective ricevono quella che sembrerebbe apparentemente essere una vera e propria svolta nel caso la famiglia Tronche inizia infatti a ricevere delle lettere anonime in cui praticamente questa persona di cui non si conosceva l'identità li informava che Lucas era vivo era in buona salute e che non dovevano preoccuparsi e continuano a ricevere questo tipo di lettere per molti mesi fino all'estate successiva quando finalmente il 12 luglio del 2016 lo scrittore emittente viene ripreso dalle videocamere a circuito chiuso dell'ufficio di smistamento da cui le spediva mentre appunto stava inviando una nuova lettera la polizia quindi interviene immediatamente e lo arresta e scopre però che si trattava di un mitomane di 57 anni di Valenza che non aveva però alcun collegamento con il caso cioè questo tizio non sapeva cosa fare tutto il giorno e si divertiva a scrivere e ad inviare lettere anonime giocando con la disperazione di una famiglia gente folle che fa cose folli nell'ottobre del 2017 è stato comunque condannato ad un anno di reclusione più un ulteriore anno sospeso l'ultimo indizio scoperto dagli investigatori comunque risale a dicembre 2016 quindi 21 mesi dopo la scomparsa di Lucas quando la polizia francese ha reso pubblico lo schizzo di un uomo che in base a diverse testimonianze era stato visto passare davanti casa dei Tronche quel giorno quindi il giorno della scomparsa l'uomo è stato descritto come alto 1,75 sulla quarantina calvo e con tatuaggi sugli avambracci ma da allora non era venuto fuori nient'altro nel 2017 quindi la polizia ha perfezionato questo schizzo e poco più di un anno dopo quindi verso metà ottobre del 2018 grazie ad una serie di segnalazioni la polizia è riuscita a catturare un sospettato e ha iniziato ad interrogarlo scoprono che l'uomo risiedeva proprio a Bagnol Sur Cez quindi la stessa città di Lucas e che il giorno della scomparsa era stato anche visto vicino alla fermata dell'autobus ma in realtà anche in questo caso si trattava solo di una semplice coincidenza e nulla di rilevante è venuto fuori l'uomo sembrava non avere assolutamente niente a che fare con il caso e quindi viene lasciato andare questo fino a quel momento è l'unico importante aggiornamento sulla scomparsa di Lucas da quel momento nonostante i numerosi sforzi di ricerca le veie annuali tenute in occasione dell'anniversario della scomparsa di Lucas e un'organizzazione no profit impegnata proprio nella sua ricerca non è venuta fuori nessuna nuova pista adesso cerchiamo di fare un attimo il punto della situazione e vi parlo delle principali teorie sulla scomparsa di questo ragazzo allora inizialmente in molti pensavano che Lucas fosse semplicemente scappato di casa quindi in principio proprio in principio si pensava ad un allontanamento volontario anche perché come vi ho detto all'inizio Lucas era un abile scout quindi aveva le conoscenze e le capacità per poter sopravvivere per qualche tempo da solo nella natura selvaggio comunque in mezzo ai boschi anche perché aveva alle spalle comunque diversi anni di esperienza e uno dei programmi tv preferiti dal ragazzo si chiamava proprio Man vs Wild un reality sul genere survivor su come riuscire a sopravvivere in luoghi dove erano presenti climi diversi ed avendo pochi elementi a disposizione ovviamente però a mio parere questa pista era un po' inverosimile anche perché voglio dire parliamo sempre di un ragazzino di 15 anni sì è possibile e sicuramente Lucas avrebbe potuto provarci e illudersi di riuscirci per un certo periodo di tempo ma vivere per tutto questo tempo e per tutti questi anni da solo in mezzo alla natura mi sembra un po' inverosimile come cosa il ragazzo poi a conferma di questo che vi sto dicendo aveva lasciato a casa gran parte dell'attrezzatura che gli sarebbe potuta servire come ad esempio il suo coltello da campo e lui in base anche alla testimonianza dei genitori non andava mai a fare delle escursioni o delle esplorazioni senza il suo coltello da campo poi ad esempio aveva anche lasciato a casa il suo sacco a pelo che comunque era un'altra attrezzatura di vitale importanza e anche gran parte del suo denaro circa 120 euro inoltre non aveva portato con sé né da bere né da mangiare quindi presto questa teoria è stata scartata poi un'altra teoria era che forse il ragazzo quel giorno aveva intenzionalmente fatto più tardi così da rimanere indietro forse perché aveva appuntamento con qualcuno qualcuno magari conosciuto online oppure sui social in realtà però pare che Lucas non fosse proprio un fan dei social media infatti pare che avesse cancellato il suo account da facebook già diversi mesi prima di scomparire le autorità hanno comunque prelevato il suo laptop e il suo tablet e dopo diverse analisi hanno rivelato di non aver trovato assolutamente nulla di sospetto anche dai tabulati telefonici non è emerso nulla di rilevante anche se non avevano fisicamente il cellulare di Lucas perché il ragazzo lo aveva portato con sé però la polizia aveva richiesto all'operatore telefonico del cellulare di effettuare una scansione dei suoi dati prima e durante il giorno della scomparsa e avevano scoperto che dai tabulati quindi dalle chiamate in entrata o in uscita non risultava nulla e poi avevano scoperto che Lucas aveva acceso la connessione dati probabilmente per accedere a Snapchat che era una delle applicazioni che utilizzava di più ma poi alle 17.14 qualsiasi tipo di attività era cessata e il telefono era stato spento ma anche facendo una particolare richiesta all'assistenza di Snapchat è venuto fuori che quel giorno Lucas non aveva inviato né tantomeno ricevuto messaggi su quell'applicazione ovviamente durante le indagini sono state interrogate tantissime persone fra cui familiari amici insegnanti compagni di scuola e di scout del ragazzo ma non è emerso assolutamente nulla di particolarmente sospetto esiste poi un'altra teoria cioè più che una teoria è un dato di fatto piuttosto bizzarro pare infatti che Lucas abbia lasciato casa quel pomeriggio portando con sé alcune pietre che teneva nella sua stanza attenzione a questa cosa che sto per dirvi perché alla fine vedremo che probabilmente c'è un qualche tipo di collegamento una delle tante passioni di Lucas infatti come vi ho detto all'inizio era la geologia in particolar modo collezionare pietre e rocce preziose nel tempo libero Natalie sua madre ha dichiarato dopo la scomparsa di Lucas che spesso il ragazzo usciva e andava in giro a cercare a raccogliere frammenti di roccia oppure pietre interessanti nelle aree circostanti e alcune di queste pietre mancavano dalla sua stanza il giorno in cui era scomparso ma una domanda rimane ancora oggi senza risposta perché Lucas avrebbe dovuto portare con sé tra tante cose proprio delle pietre infine un'ultima teoria era quella di un evento accidentale forse Lucas uscendo di casa era stato investito da un'auto e l'autista era stato poi colto dal panico e quindi aveva deciso di nascondere il corpo oppure di portarlo con sé per poi sbarazzarsene successivamente e questa in realtà è anche una delle teorie più abbracciate dalla famiglia nel senso che la famiglia era convinta che Lucas o era stato rapito oppure era stato vittima di un evento accidentale ed in realtà i detective vanno anche indagato su questa teoria contattando ad esempio tutti i meccanici di bagnol sursese dei vintorni e chiedendo loro se avessero lavorato su dei veicoli danneggiati magari particolarmente nella parte anteriore oppure con dei segni un po' sospetti nei 15 giorni successivi alla scomparsa di Lucas però non è emerso assolutamente nulla il primo marzo del 2016 quasi un anno dopo la scomparsa di Lucas a Clarenzac un villaggio a 62 km da bagnol sursese Antoine Zoya un ragazzo di 16 anni è scomparso dopo essere uscito di casa intorno alle 13.30 Antoine era uno studente del secondo anno di liceo scientifico e la sua personalità era considerata simile a quella di Lucas il ragazzo era stato visto l'ultima volta mentre comprava un pacchetto di sigarette da una tabaccheria è stata quindi avviata un'indagine per capire se potesse esserci un qualche tipo di collegamento tra queste due sparizioni di due adolescenti con caratteristiche molto simili scomparsi in due località più o meno vicine tuttavia però il 2 ottobre del 2018 il corpo di Antoine è stato ritrovato impiccato in una località boschiva vicino appunto Clarenzac è stato poi successivamente stabilito che si trattava di un gesto volontario per diversi anni non ci sono state novità non è emersa nessuna nuova pista né qualcosa di particolarmente sospetto questo almeno fino a giugno del 2021 il 24 il 25 giugno del 2021 sulla cima del Masjan a pochi chilometri dalla casa di Lucas i vigili del fuoco si sono calati lungo il fianco della scogliera per esplorare alcune aree non ancora completamente esplorate a metà mattinata uno dei vigili del fuoco ha lanciato l'allarme aveva notato uno zaino blu scuro sulla roccia i vigili del fuoco hanno poi trovato i resti di alcune ossa e pezzi di vestiti sospettati di appartenere a Lucas Tronch sono quindi stati eseguiti i test del DNA che hanno confermato che si trattava proprio del ragazzo scomparso Lucas è stato trovato in una zona in cui pare gli piaceva particolarmente cercare pietre quindi vi ricordate il fatto che aveva portato con sé delle pietre da casa ed è stato trovato in una zona in cui solitamente cercava questi frammenti di roccia o pietre preziose le ossa però non dicevano granché nel senso che non mostravano una causa specifica di morte la polizia infatti pensa potrebbe trattarsi di una caduta accidentale oppure di un atto proprio deliberato di gettarsi da lì sfortunatamente quindi i resti lasciano quasi più domande che risposte una forse fra tutte è perché lucas è uscito da casa e ha spento il telefono l'indagine comunque non è ancora stata chiusa i genitori vogliono capire che cosa è realmente successo a lucas perché quel giorno ha cambiato programma e invece di recarsi in piscina si è recato proprio su quelle montagne queste sono tutte le informazioni che avevo sul caso di oggi ad oggi non ci sono novità quindi se dovessero esserci degli aggiornamenti ovviamente nei video successivi che pubblicherò sul mio canale mi ritaglierò un momento per aggiornarvi sulla situazione come sempre fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate voi di questa storia io personalmente credo che quel giorno lucas per qualche motivo abbia deciso di non andare a lezione di nuoto e di recarsi appunto su questa scogliera per cercare delle pietre che sia stato vittima di un evento accidentale quindi di una caduta non so per quale motivo però credo penso che sia successa una cosa del genere che sia stato semplicemente vittima di un evento accidentale e che si è andato lì per cercare delle pietre e poi si è scivolato che si è caduto e purtroppo è andato incontro ad un triste destino anche perché dall'analisi dei resti non è emerso nulla di sospetto in merito alla morte non c'erano segni sulle ossa che potessero far pensare ad esempio a dei tagli oppure a dei colpi da corpo contundente o cose del genere però ecco questa è solo una mia teoria potrebbe essere accaduto qualsiasi cosa non dimenticatevi quindi di farmi sapere cosa ne pensate voi e come sempre se il video vi è piaciuto vi chiedo di lasciarmi un like per supportarmi e soprattutto iscrivetevi al canale se vi fa piacere se volete seguitemi anche su instagram mi trovate come marianna trattino basso molinaro oppure su tiktok mi trovate come svaniti nel nulla grazie per essere rimasti fino a questo punto e noi come sempre ci vediamo al prossimo video ciao ciao